Allora, mi chiamo Massimo e vivo qui a D'Angio dal 2013, dal settembre 2013, con la mia famiglia. Siamo di Napoli, io sono di Napoli. Sono venuto qui in Cina a studiare medicina cinese, acopuntura e alla GiaGia Uncernismarieca Università. Il mio interesse per la cultura cina è venuto quando ero ragione. E, ovviamente, viene dal film. Voi, come diceva di Chen Long, Li Lian Jie. Quando ero 17, 18 anni, ho cominciato a essere interessato alla filosofia, la filosofia che ha il mangio, il corso. Da questo è stato il desiderio, il desiderio di venire in China e in contatto con l'handa di questa cultura scritta nel libro. Quando ero studiato, ero studiando un mestiere, e ho studiato un mestiere, e ho studiato un Ph.D. Quindi ho finito il mio Ph.D., ho studiato una ricerca per la cervical spondylosi. Ora sto facendo una doccia, che voglio fare una doccia per la doccia in China. Per essere in una clinica e vedere i pazienti, per aiutare le persone che mi hanno aiutato la vita e proteggere la vita. In la mattina, ogni settimana, io ando al rio, da 6.30 fino a 9.30. Io ho studiato Giang Zuan, Tai Chi Chuan e Paduan Jing. Io ho studiato alcuni studenti, alcuni studenti. Un'altra parte principale del Kung Fu è che il Kung Fu è per nourriggere la vita e proteggere la vita. Abbiamo dei grandi maestri che creano il Kung Fu stile. Queste persone non solo creano qualcosa per farlo o competere con gli altri. Si creano qualcosa per un modo spirituale. Il cuore del Kung Fu è per nourriggere la vita. Quindi si cambia rapidamente alla medicina chinesa. Perché nella medicina chinesa ci sono tutti i principali per proteggere la vita, per nourriggere la vita. e nourriggere la vita. Lo che ho studiato in China è studiare la lingua chinesa. Il un problema reale della città della città della città della città è che è grande e vaste che sono così enorme. Quindi una vita non è sufficiente da aprendermi. Grazie a tutti.